Ben ritrovati, buongiorno ETV, la nostra rassegna stampa, il nostro modo di cominciare insieme la giornata in contemporanea e in diretta a partire dalle 7 fino alle 9.30 349 39 18 169 ci potete seguire ovviamente e interagire con noi sul canale 12, lo potete fare sulla app che si scarica per smartphone e per tablet sul nostro sito www.tvmarket.it e sulla nostra pagina Facebook tanti sono gli argomenti di questa giornata che coincide stasera alle 19.30 con l'inaugurazione della cerimonia olimpica e quindi con i giochi di Parigi 2024 ne parleremo anche perché alcune notizie sono presenti oggi sui due quotidiani prima però partiamo da uno sguardo al meteo, situazione odierna con sole che accompagnerà le nostre giornate e le nostre 5 province, temperature tra 32 e 34 gradi da Ancona fino a Pesaro diciamo giornata molto calda ma propedeutica ad un fine settimana ancora più infuocato ancora più rovente per certi versi perché sabato le temperature saliranno di circa 2 gradi e proprio domani è previsto il ritorno dell'anticiclone africano Caronte sulla regione quindi la giornata si trascorrerà con generali condizioni di bel tempo il sole non avrà grossi problemi per poter splendere in un cielo che si presenterà sereno poco nuvoloso su tutto il territorio, temperature massime fino a 36 gradi attenzione però perché domenica 28 addirittura le temperature andranno ancora più su e quindi la scia dell'anticiclone proseguirà e il sole da arancione diventerà di fatto rossastro sfiorando appunto i 38 gradi ecco qua il bollettino meteorologico per il prossimo fine settimana l'ormai imminente fine settimana noi lo abbiamo cominciato in vostra compagnia tanti messaggi, tanti argomenti che vi riguardano e che vi toccano da vicino alcuni dei quali presenti sul nostro sito ovviamente a partire dalle Olimpiadi con Tamberi che ieri è volato a Parigi in presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella o meglio a bordo del stesso velivolo che trasferiva Mattarella da Roma a Parigi c'era anche Gianmarco Tamberi che poi in un simpatico siparietto social ha ringraziato il Presidente della Repubblica dicendo grazie per questo passaggio altre notizie ovviamente legate alla giornata mondiale della prevenzione dell'annegamento ieri un presidio a Porto Novo partecipato non solo dagli operatori del salvamento e quindi quelli che costituiscono proprio la società i bagnini di salvataggio per capirci ma anche per tanti turisti e persone che si sono ritrovati in Baia per rubare con gli occhi direi è il caso di dirlo in maniera sana rispetto a questa espressione ma anche per apprendere qualche tecnica e conoscere come fronteggiare situazioni di panico in acqua perché bisogna stare davvero sempre molto attenti ed essere prudenti e poi ancora la sanità abbiamo parlato del Partito Democratico qualche istante fa lo faremo proprio attraverso i due quotidiani ma anche la notizia sicuramente principale è quella della Lanterna Azzurra perché ieri c'è stato un presidio molto partecipato da parte dei familiari delle vittime un corteo per le vie del centro di Ancona e hanno detto vogliamo giustizia hanno sfilato per il centro cittadino nei luoghi diciamo deputati e che circondano sostanzialmente il tribunale di Ancona e hanno protestato in maniera pacifica però hanno parlato di una sentenza a parer loro ingiusta e che quindi per loro parenti i sei sono state le vittime per le sei famiglie diciamo così si tratta di una seconda tragedia arrivano anche i vostri messaggi in tal senso e tra un attimo lì andremo a scandagliare perché molti sono proprio messaggi di solidarietà alle famiglie alcuni invitano a continuare a combattere per cercare di trovare giustizia passiamo però ai due quotidiani Corriere Resto del Carlino i vostri messaggi li tengo in caldo per dopo 349 39 18 169 continuate a scriverci a sottoporci gli altri argomenti perché poi li andiamo assolutamente a ripescare direi però di partire da qua dal Corriere Adriatico edizione di Ancona lo avevamo accennato prima di salutarci con la storia del Partito Democratico è il titolo principale del Corriere edizione di Ancona ma lo ritroveremo riproposto anche nelle altre cinque province perché ieri sia stato questo siparietto non tanto pacifico tra i consiglieri democratici anzi il Corriere parla di un enesimo atto della faida DEM con la Monprezzi che si è alzata per un'intervista e Mangialardi che le avrebbe preso il posto intervenuta la nuova capogruppo Anna Casini fate un po' per uno e la segretaria del PD Chantal Monprezzi se ne sarebbe andata in lacrime insomma continuano le tensioni all'interno del PD passiamo invece al taglio centrale alla fotonotizia che è dedicata a Piazza Pertini il nulla dopo il calcio o meglio il calcio a 5 perché il torneo lo sappiamo insomma che è di Fuzzal i commercianti dicono dove sono i progetti vorremmo un intrattenimento e una serie di appuntamenti collaterali differenti perché appunto dopo il grande ritorno del cittadino ancora che c'è stato quest'anno la piazza sarebbe rimasta poco presidiata almeno in termini di vita se non utilizzata dalle moto come parcheggio diciamo così andiamo avanti con la cronaca da Falconara il furto di sigarette due sedicenni che sono stati inchiodati dalle telecamere Numana invece un dramma alla foce del fiume Musone successo a cavallo tra Numana e Porto Recanati è morto un 78enne che era originario di Como poi chiaramente il presidio per la Lanterna Azzurra i familiari delle vittime che sono tornati a protestare al grido di una sentenza da vergogna scendiamo sotto prima di passare alle Olimpiadi Moncaro è in crisi arriva un tutor per sanare i conti è stato nominato dal tribunale dice il Corriere Adriatico in riferimento alla vicenda dell'azienda che produce vini poi invece per quanto concerne i giochi ai 5 cerchi Tamberi a Parigi volo con Mattarella oggi sarà portabandiera insieme ad Ariane Rigo e quindi la cerimonia d'apertura che di fatto farà girare e accendere i riflettori di tutto il mondo sulla Villumiere e anche sul nostro Gimbo che da qualche tempo è diventato testimonial della nostra regione di questo si parla anche sul Carlino edizione di Ancora Tamberi sull'aereo di Mattarella in effetti il nostro campione in volo col Presidente della Repubblica da Ciampino a Parigi per le Olimpiadi poi sotto in taglio centrale la notizia dedicata alla giustizia che vorrebbero le famiglie hanno detto i nostri cari sono stati uccisi due volte dopo la strage di Corinaldo questo è approfondito all'interno magari dopo andiamo a guardare anche le voci e i contributi che sono stati raccolti dai colleghi della carta stampata la cronaca dalla provincia a Falconara i minorenni rubano in tabaccheria in due bloccati dalla polizia locale a Numana si tuffa in mare dopo la passeggiata è morto un turista e invece a Senigallia la politica con le comunali e il PD che vuole Mangialardi la candidatura dunque si complica Mangialardi impegnato su più fronti in questa fase della sua stagione politica peraltro è stato sinnaco per dieci anni di Senigallia sotto un po' di di culture di appuntamenti sorpresa dice il resto del Carlino la Scorsese in vacanza a Porto Novo la figlia del regista è una star di TikTok mentre a destra possiamo vedere questa news di Neri Marco Re che è a Lazzaretto nel frattempo ci sarà anche uno show sotto le stelle di Max Gazzè un'estate di eventi in questo caso tra Ancona e Iesi mi sono lasciato per ultimo la notizia legata ad una sfida anticipo che avremo degli ospiti ad hoc riguardo questo appuntamento con un iter giudizio o beh scusate con un iter legislativo perché ieri in Parlamento a Roma si è dato avvio di fatto impulso alla Costituzione o meglio al riconoscimento del Parco Regionale del Conero a Parco Nazionale del Monte Conero è un giorno storico hanno detto i protagonisti una sfida per turismo e ambiente i comuni e regioni erano a Roma per parlare di questa proposta di legge che ha tra il primo firmatario il deputato Anconetano Stefano Benvenuti Gostoli ma l'impulso fu dato da Daniele Silvetti oggi sindaco di Ancona quando ancora presidente dell'ente Parco del Conero di lì sono passati alcuni anni si è arrivati a questo appuntamento che si è tenuto proprio a Roma sala del refettorio in un palazzo molto bello devo dire perché la conferenza si è tenuta in un ambiente meraviglioso e tutte le istituzioni hanno condiviso in maniera possiamo dire anche bipartisan questa opportunità un'opportunità strategica per le marche perché peraltro a rispetto di altri parchi nazionali penso a quello di Sibillino o Gran Sasso sarà l'unico questo del Conero all'interno dei confini regionali o meglio l'unico che sarà interamente all'interno dei confini regionali per essere più precisi perché in effetti raggruppando i comuni di Ancona Camerano Sirolo e Numana non svalicherà regione quindi rimarrà all'interno della nostra straordinaria regione Marche passiamo ad altre notizie Corriere Adriatico edizione di Ascoli il taglio centrale è dedicato alla dama di Sant'Emidio quindi siamo in città tradizioni che ritornano la Gabrielli è la nobile donna della rosa rossa e appunto è stata individuata lei Stefania Gabrielli ancora sotto sempre dalla città nuovo asilo nido Fioravanti cerca l'area nelle frazioni il riviera invece a San Benedetto malori per il caldo un turista si accascia in spiaggia e muore quindi un'altra situazione di emergenza dopo quella che si è verificata a Numana e quindi alla foce del musone a Montemonaco invece la crescita demografica per la perla dei Sibillini che svela i suoi segreti quali sono lo andiamo a vedere all'interno del Corriere Adriatico perché è l'unico comune che ha i residenti in crescita la perla della montagna nel 2023 gli altri 18 centri delle aree dei Sibillini e Tronto Val Fluione hanno registrato il segno o meno quindi è chiaro che c'è un'inversione di tendenza in questo caso la sindaca Grilli dice funzionano gli incentivi a chi si stabilisce qui e la qualità della vita è molto alta ha dichiarato la sindaca di Montemonaco voglio tornare alle notizie di Ascoli per andare appunto a vedere quali sono gli altri argomenti presenti oggi la polemica arriva da San Benedetto e sui finanziamenti e sui manti erbosi accusa il sindaco da parte del patron Massi il presidente Vittorio Massi della San Benedettese quindi si continua a discutere di quello che sta accadendo al Torrione che è stato rifatto con i soldi del comune mentre quello del Ciarrocchi ce lo siamo dovuti pagare da soli è un presidente rossobluo Vittorio Massi furioso di fronte alle determine dirigenziali del comune di San Benedetto del Tronto passiamo all'edizione accorpata del Carlino di Ascoli e Fermo direi che la notizia più rilevante non me ne vogliano le altre per carità ma è sicuramente questa ovvero che l'azienda sanitaria territoriale ha sospeso WIC dal lavoro l'infermiere era stato assolto per le morti sospette nella residenza sanitaria per anziani di Offida lo ricorderete il caso di cronaca assolutamente nazionale è stato condannato per peculato e quindi ha ricevuto uno stop di 11 giorni potete approfondire ovviamente all'interno del Carlino oggi in edicola sopra una tragedia 83 anni non ce ne siamo occupati ancora stamattina ma purtroppo ieri è stato recuperato senza vita il corpo di questo anziano era scomparso da un giorno aveva così lasciato la sua abitazione e dunque Monturano alla notizia del ritrovamento si è stretta al dolore di questa famiglia era era stato puntato mentre si trovava all'interno di una sorta di boschetto dei cani molecolari che lo hanno appunto individuato ma purtroppo per lui non c'era nulla da fare sotto comunità in festa un momento speciale per il centro Sagrini di Fermo così aiutiamo donne e minori in difficoltà da Ascoli città invece il consiglio comunale con Fioravanti che dice cerchiamo nuovi spazi per gli asili nido tema cruciale non solo per la città ma anche per le realtà limitrofe a Porto Sant'Elpidio aggressione con Mazze e Coltelli due feriti quindi una rissa che arriva dalla riviera e per concludere con Ascoli invece come abbiamo visto anche prima Stefania Gabrielli è la dama di Sant'Emidio l'imprenditrice sarà alla sua terza sfilata sono orgogliosa ed emozionata stiamo ovviamente guardando già alla Quintana da Ascoli a Fermo e allora Corriere Adriatico con Taglio Centrale fotonotizia dedicata alla radiologia che sta puntando decisa sulle nuove tecnologie arriva una TAC per gli ospedali del futuro e questi sono anche medici e sanitari professionisti che si occupano della radiologia dall'altro lato invece è una notizia che viene richiamata in tutte le edizioni del Corriere Adriatico con i tanti ruoli di Sant'Ori si continua a parlare del presidente della Svem e il Corriere Adriatico dice nel crocevia degli interessi a diversi incarichi e appunto il Corriere analizza la sua situazione dopo che sarebbero emerse appunto delle perdite al netto della Sant'Ori Pellami dice il Corriere la società di cui presiede il Consiglio di Amministrazione è ai vertici di un consistente numero di enti e centri di potere che lo hanno reso una sorta di perno nel coordinamento dei soldi della regione il più rilevante è il ruolo di presidente della Svem con cui garantisce i fondi dell'Unione Europea entrando nel dettaglio ricorderete ieri il caso riportato sul Corriere Adriatico l'esperto di soldi con l'azienda in affanno dice il Corriere Adriatico presidente e guru dei soldi pubblici che guida un'azienda con oltre 10 milioni di debiti con le banche quindi il Corriere è tornato su questo su questo argomento con due pagine dedicate appunto alla situazione di Santori che poi è stato anche intervistato o meglio ha inviato una lettera al giornale nessun debito con nessuno solo esposizioni con le banche la mia azienda ha solidi valori e Santori si è scagliato quindi contro il partito democratico che aveva sollevato la questione torniamo alla prima pagina del giornale notizie dalla provincia due da Porto Sant'Elpidio una da Torre San Patrizio in particolare iniziamo da qui violenta lite in casa minaccia di gettare il figlio dalla finestra e ancora dalla città riverasca da PSE due news sempre di cronaca spuntano i gratini in un'auto rubata e caccia alla banda e ancora feriti nella rissa sono in due scatta l'indagine nella rete degli spacciatori andiamo a Porto San Giorgio si parla di urbanistica dell'area ex branella firmata all'intesa su strade e verde così arriverà il supermercato a Porto San Giorgio il gruppo Gabrielli ha stilato una sorta di protocollo con il comune per il nuovo market nell'area dell'ex fornace branella spazio verde e case per rilanciare tutta la zona direi di passare all'edizione di macerata poi ricordo insomma che oggi continueremo a parlare con particolare riferimento di olimpiadi stasera scatta la cerimonia inaugurale e quindi andremo andremo a vedere anche attraverso i profili dei nostri atleti come si stanno preparando agli appuntamenti che li vedranno protagonisti tra pochi giorni Corriere Adriatico edizione di macerata via libera al museo Torregiana Fontescodella rinasce un maxipiano da 4,5 milioni di euro con questo rendering e persone immaginarie in attesa di vedere quelle vere nei pressi della nuova struttura che osservano appunto queste edificazioni all'avanguardia approfondimento all'interno del Corriere Adriatico dalla città sempre notizie di cronaca in questo caso con la movida fracassona ai giardini Diaz arriva la multa per un bar mentre sempre nel cuore del capoluogo di provincia bazar della droga lo spacciatore resta ai domiciliari stiamo parlando ovviamente nel caso di cronaca di alcuni giorni fa ovvero quando un ragazzo è stato sorpreso con 36 kg di sostanze stupefacenti all'interno della cantina del garage diciamo così della nonna a Civitanova aggredisce la moglie il pescatore è stato arrestato per tentato omicidio e poi scendiamo a Recanati dove si parla di Clementoni che ha vinto un bando da sapientino all'intelligenza artificiale per creare giochi per bambini un'idea di un'azienda Clementoni che punta a far diventare realtà grazie a questo bando europeo interessante si chiama ricerca e sviluppo per innovare le marche che l'azienda ha vinto e che permetterà di ottenere incentivi per attività di ricerca e sviluppo sperimentale resto del carlino macerata l'edizione di oggi che si apre con un soccorso a lieto fine anzitutto è importante sottolinearlo perché ieri è stata la giornata della prevenzione proprio dell'annegamento allora voglio partire da qua questo è accaduto a Civitanova purtroppo c'è stato un lutto tra Numano e Porto Canati con un turista di 78 anni che è deceduto ma invece a Civitanova la mamma e la figlia erano in difficoltà per il mare grosso e sono state salvate a proposito nel stesso giorno si svolgeva questo tipo di appuntamento che ci ha raccontato Andrea Fiano attenzione responsabilità la giornata della prevenzione all'annegamento dalla sua torretta il bagnino invia il segnale di emergenza e si tuffa prontamente c'è una ragazza che sta naspando in mezzo al mare di Porto Novo viene recuperata e portata a riva iniziano le operazioni di salvataggio primo soccorso massaggio cardiaco rianimazione poi il caricamento sulla barella perché in pochi minuti arriva pure il gommone di salvamento che si dirige verso il molo per fortuna è tutta una simulazione un'esercitazione organizzata da Anpass Marche e la società nazionale di salvamento nella giornata mondiale per la prevenzione dell'annegamento perché troppo spesso il rischio è di sottovalutare il mare e l'acqua in generale con comportamenti che purtroppo la cronaca ci racconta possono anche sfociare in tragedie che colpiscono adulti ma anche bambini sono sei anni che c'è questa sinergia tra società nazionale salvamento e Anpass per dotare imbarcazioni di soccorso come questa che è qui a Porto Novo di personale misto tra personale della società nazionale salvamento e soccorritori Anpass quindi c'è chi sicuramente ha una migliore conoscenza delle tecniche e delle modalità di recupero di un infortunato in mare dall'altra parte chi magari ha una maggiore conoscenza di quello che sono invece le manovre di primo soccorso sanitario da attuare in situazioni critiche Quali utili consigli? Semplici raccomandazioni che sono ancora quelle che provocano circa il 38% delle mortalità nella zona del bagno pensate dove questi incidenti accadono fra l'indifferenza anche dei bagnanti fare il bagno dopo mangiato che è una cosa banale che oggi purtroppo provoca una grande mortalità come non tuffarsi non tuffarsi nelle acque che non si conoscono e dove soprattutto è vietato i tuffi la responsabilità insomma non solo dei genitori di non lasciare i bambini incustoditi perché il bambino pensate che annega in 20 secondi è contro un minuto un minuto e mezzo dell'adulto quindi la fascia più debole è proprio quella dedicata ai ragazzi e ai bambini le nostre spiagge sono sicure e quello che è importante è che dietro comunque c'è un sistema coordinato di intervento nel caso del soccorso a mare c'è un ulteriore coordinamento perché non è più solo la centrale operativa 118 che si occupa del soccorso sanitario a gestire l'intervento ma questo viene fatto in sinergia con la capitaneria di Porto e quindi le autorità preposte che invece hanno giurisdizione sul mare e spiaggia questo l'appuntamento di ieri notizie di cronaca ancora da Civitano picchia e minaccia la moglie in arresto è accusato di tentato omicidio e maltrattamenti la donna è fuggita calandosi da una finestra voglio farvi vedere questa news che invece arriva dalla città di Macerata numeri in crescita per il turismo il traino di Macerata Opera Festival delle mostre le vacanze in città le persone che appunto vogliono conoscere Macerata per la sua bellezza per la sua cultura per il suo palinsesto di appuntamenti ancora news anche di sport Re Canatese il direttore tecnico Cianni punto a un campionato di alta classifica ha detto mentre di cultura parliamo e ci tuffiamo in questo caso nella storia di Treia con la disfida del bracciale oggi al via la storica rievocazione vi voglio portare all'ultima provincia da scandagliare quella di Pesaro lo facciamo con il Corriere Adriatico qui purtroppo brutte notizie con l'acquedotto che si rompe a Pantano la crisi idrica e la regione Marche che impone di dimezzare i prelievi poi dalla città di Pesaro invece la triste notizia di Fulvio Tonti dell'Ifi che è morto nel giorno del suo compleanno situazione che ha destato ovviamente un grave shock in tutta la comunità sempre da Pesaro al 118 i medici privati iperpagati il caso è stato sollevato anche in regione chiudiamo con il nuovo CDA di Asset lo guida Mattioli e torna Cocuzza dopo le nomine da parte dell'amministrazione comunale per quanto riguarda il Carlino si continua a parlare di soldi facili il PD interviene dice si serve chiarezza il capogruppo Perugini sul caso sollevato dal giornale dal Carlino ma no ad una commissione di inchiesta e poi ancora a proposito di acqua Lucia e Mattia il loro messaggio farà il giro dei quartieri allarme siccità ridotti del 50% i prelievi dai fiumi della provincia l'acqua non va sprecata lo dicono due bambini nello spot del comune che sarà diffuso anche grazie all'altoparlante all'interno delle vie della città poi una notizia che arriva da Fano con una polemica dire il vero il vice sindaco che parcheggia nella zona a traffico limitata non aveva il permesso hanno protestato dalla opposizione e chiudiamo con il calcio e il basket per quanto riguarda il pallone la vis cede a Venezia ma la squadra già piace stiamo parlando sempre ovviamente di serie C per quanto riguarda invece la VL Pesaro in bro si presenta faremo grandi cose questo è il suo messaggio per arringare i tifosi della Vittoria Libertas Pesaro mi devo fermare ma torniamo tra pochissimo sempre con tante notizie state con noi Sauber e Sauber specialista nell'igiene professionale cura la pulizia e la sanificazione